Queste sono le immagini tristemente note di Cremona Dissing, l'indagine che permise di sgominare una baby gang di ragazzi tra i 15 e i 18 anni, bulli social, autori di risse, rapine e distorsioni consumate per mesi a danno di studenti, anche giovanissimi. Sono immagini che nessuno vorrebbe più rivedere, per questo 80 fra docenti, studenti e famiglie contro bullismo e cyberbullismo hanno frequentato gli sportelli di primo ascolto e si sono coinvolti nei cosiddetti percorsi di bull out. L'obiettivo è quello di aiutare gli stessi giovani a fronteggiare situazioni di disagio e di difficoltà. 100 ragazzi hanno frequentato laboratori per riflettere sul tema delle relazioni, 600 hanno preso parte iniziative di sensibilizzazione sulle relazioni fra adolescenti in un contesto scolastico, 300 studenti sono infine chiamati a fare da peer educator nelle scuole superiori. La regia è stata affidata al CRIAF, Centro di Riabilitazione Infanzia, Adolescenza e Famiglia, in collaborazione con l'ATS e la SST di Cremone di Crema, gli enti locali, diverse associazioni anche familiari e sportive e 27 istituti scolastici del territorio, grazie ai fondi messi a disposizione dal bando regionale Linea Bull Out 2018-2019. Speriamo che presto se ne vedano i frutti.